Debutta nella televisione italiana nel programma Buona Domenica, come concorrente di Miss Buona Domenica nel 1994. Trova il successo conducendo il programma pomeridiano di Italia, Un colpo di fulmine. Negli anni successivi, oltre a condurre trasmissioni per televisioni tedesche come Deutschland such den Superstar, format eutonico di pop idol, e Svizzere, conducendo Cinderella su TV3. In Italia conduce Zellig, scherzi a parte. Paperissima. Striscia la notizia. Oltre al Festival Bar 2002 e Festival Bar 2003. Molte volte possono capitare degli imprevisti, che ci rendono la vita piena di ostacoli da affrontare, al punto da farci credere che quell'episodio possa aver rovinato una giornata felice. Ed è proprio quello che è capitato alla conduttrice Michelle Unziker, in quanto durante il suo viaggio le è successo l'impossibile. Andiamo a vedere di cosa si tratta come si evince da questo screenshot di una Instagram Stories della bellissima conduttrice. Pare che la donna si sia rovesciata per puro caso il caffè sui suoi pantaloni bianchi. Insomma un vero e proprio disastro. Infatti, la donna con la sua solita ironia che la contraddistingue ha voluto commentare l'accaduto proprio, con i suoi amati follower che da sempre la sostengono. Si legge, perfetto. Appena partita mi sono rovesciata tutto il caffè sui pantaloni bianchi, con tanto di emoticon che sorride. Insomma non parte benissimo questa vacanza, per la Unziker, ma auguriamo che la donna possa riprendere il suo viaggio in maniera piuttosto tranquilla. Gli imprevisti fanno parte della vita.